Quella di oggi è l'ennesima attività della stazione Carabinieri di San Luca, la quale ha sviluppato un'attività di indagine che si chiama Car Crash 2, il cui nome ovviamente richiama al tipo di reato che è stato contestato, ovvero le truffe ai danni delle assicurazioni. Diversi reati in particolare che sono stati contestati, tra cui sostituzione di persona, uso di atto falso e fraudolento danneggiamento di beni assicurati. È un'attività che ha consentito in due anni di tempo in cui è stata sviluppata di accertare 10 falsi e sinistri stradali, ma anche oltre 40 polizze assicurative stipulate utilizzando documentazione contraffatta. In particolare è stato accertato in alcuni casi che alcuni degli indagati hanno utilizzato della documentazione in cui dichiaravano di essere residenti in quei comuni d'Italia definiti più virtuosi, nei quali per via di un minore o di un più basso indice di sinistrosità l'assicurazione costava di meno. È un'indagine che ha consentito di accertare circa 250 mila euro di danno alle compagnie assicurative e non è la prima attività che svolge di questo tipo la stazione di San Luca che già in passato, dal 2014 al 2017, ha sviluppato un'attività che si chiama Car Crash, precede quella di oggi e in quell'occasione sono state denunciate oltre 200 persone. È un'attività che nasce comunque da un attento monitoraggio di soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata.